Domenica prossima 9 settembre il gremio dei Sarti rinnoverà la propria festa maggiore. Al mattino nella chiesa di Santa Maria di Betel, al termine della messa dell'11.30, si terrà la tradizionale cerimonia dell'intregu. Per la prima volta nella sua esperienza gremiale il nuovo obriere maggiore Giovanni Andrea Pasca riceverà la bandiera dalle mani del celebrante padre Salvatore Ruiu dell'Ordine dei Servi di Maria. Un passaggio che segna il termine della quarta esperienza come obriere maggiore di Salvatore Spada. In serata alle 18.45 con partenza dalla chiesa di Santa Maria si snoderà la processione a cui parteciperanno i gremi. Le celebrazioni in onore della patrona alla vergine di Monserrata avranno inizio con i vespri solenni di sabato alle 18.30. Quest'anno la cerimonia sarà impreziosita dalla presenza del gremio degli Ortolani che rinnoverà la propria festa minore nel giorno della natività di Maria con la messa delle 19 alla quale prenderà parte il gremio dei Sarti. Questo dovrebbe essere l'ultimo anno in cui il gremio celebra la festa maggiore senza poter utilizzare il proprio altare. A causa di gravi problemi di sicurezza creati dall'infestazione di Tarme, l'altare è stato smontato per essere sottoposto a importanti restauri che dovrebbero terminare nei prossimi mesi.